Salve amico Penguera sono Zarax e questo è un video su Warhammer Fantasy Mark of Chaos quest'oggi siamo andati fino al Signore dei Latti e niente abbiamo saccheggiato poi la... tutti i soldi se... tutti i soldi allora andiamo al Signore dei Latti non so che siamo... tolga il ciccione con la... la scena... no allora posso mettere due eroi sta liberato questo va? oh io li faccio usare ah, usate non c'è lui, c'ha due quindi mettiamo... eeeh c'è uno mmm questo per un attimo no no così ma mettiamo lui come si fa come generale trovare volo venti cosa metto questo che adesso c'è il motore è tutta completa più la matura e un po' si è carico questo se vedrà più più altro che ora mettiamo i nostri campionati indivisi un gruppo altro gruppo l'oro e il tori fuori da caos si un tori per due direi meglio un tori credo che sia una materia molto più pezzuta sì un tori io puoi direi a casa andiamo barra di caricamento su tutte le altre razze di impero strano con delle scape si estendono lungo il vecchio mondo fino a catai in est assolutamente a est di grande l'oceano ovest il signore dei ratti mamma mia cosa sarà un cavo clan un non so un assassino un plaga monk eccoci qua allora dove è nostra qui ci mettiamo vicino no 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 E' l'aiuto che c'è approfondito? E questa è la cosa che fa davanti Ecco qui, dietro questi qua, e cominciamo. C'è un'esplice. se tratta di più di più di più. Le scef e le scef sono una dominanza di più. Sono stati fattenti e servono di un maestro forte. Se ci tratta di più forte, il più forte sarà il mio per il cuore. Un uccidio i ragazzi! Questi cristali che tratta di ragazzi! Un uccidio immediatamente! Ammazzano questi qua! Non scusate i stronti! Ammazzano i stronti! Ah li prendono a prendono! Grande! Non scusate i stronti! Stronti! Oh yeah! C'è un sacco? Non è sì! 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 Guardate le scuole! Forza, ragazzi! Forza! Questi non strumenti! RANNN! Guardate! Ecco, sapevo io! Un cestoio di peste! Sapevo io! Rai questa ovela all'interno! Rai questa ovela! RANN! Come ti mandi! Le macchine sono più valutiche che le tue le tue! RUN! Non mostrivi la misericordia! Vieni ai nostri cittadini! Questi weaklings non possono stare prima di me Ho pagato, pagato per questo! Noi non preoccupiamo questo, ma riuscirò i Dio! Mi prendi sul pietro della morte! La torta della mia sorella mi guida! Mi prendi sul pietro della morte! RUN! 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 Il corso di danza continua. Il tuo decennio avrà avuto più tardi. La pietra nera. for pietra Dai Pochi Insai sono dei ritori Mi stanno giù in su non va bene Non va bene Ah la notizia Mi scusate Devil War 3 Confermato E' confermato ho visto poi il trailer L'aspetto alle 4 perchè In... L'altra parte era alle 3 In Inghilterra, in Gran Bretagna Alle 7 di mattina Era... Era... Oceania Invece No No Il 4 Italia Abbiamo applicato alle 7 Il ping Il ping Il ping Il ping Il ping Ma mia Che è liberato Invece 3 Ma mia Ma mia Cosa è? Cosa è? Cos'è? Noi fioriamo nulla La danza di corso continua Questi saranno i miei terzi Questi weaklings non possono stare davanti a me Io cerco i miei volumi La nostra città è la più forte Questa deve essere il loro leader Uccidere il ragazzo di rosso! Glorio al caos! Glorio al caos! Vieni! 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 Che cosa avresti di avere del suo giro? Vieni! Vieni! Che colpo! Questi non scambi! RUNN! Ok... Questi saranno i miei pezzi! Il portatore dei pezzi ti ha chiesto! Come ti mandi il pezzi... ...li maghi sono in grado! Per morire, morire, potevo! Non è che avevo già fatto male! Sta buono! Dai! Mamma mia, non è che scappo a me, maestro! Uuuuh! Oh, molto bene! Questa è un'altra persona rosa! Ehm... La nostra città è la più forte Ha chiesto te la prima! La terra e la città! E la terra! Glorio al caos! Questa è un'altra persona! 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 Questi non sono stati! Corri! Scorri le pezzi! Scorri le pezzi, figli di Nagal! Siamo seguiti! Scorri! Non riesco a prendere le pezzi! Le pezzi! Le pezzi! Non riesco a prendere le pezzi! Il nostro pezzi non prendere le pezzi, il nostro pezzi non prendere il tuo cuore! È felicità! La morte è un portiere delle pezzi che ha chiesto a te! intanto, tanti gruppo, un po', le scavenci sono persi, morale è quanti, una matura ligera fra un punto fine, io uso i scaven su un rubber fantasy cos'è sta? ok, torniamo, mi sono dimettito qualcuno, no? ce la c'è un esercit....hocheAR ok 我の仕方 have been defeated, now you will do my bidding Il clan Essen è morto, sì, non vogliamo te angliare. Sì, serviamo ora, grande maestro. Bene, allora c'è qualcosa che voglio fare, qualcuno che ho bisogno di trovare. Trovare? Sì, sì, possiamo fare questo, possiamo fare questo per te e molto più. Oh, che bello, casquette con un scaven. Allora, il piano. Ma è più da sì, di un scaven. Il piano. La noizia man thing wants us to find Elf. I know where Elf is, in Hightower. We go to Hightower now, yes, yes. Imbecile, no, no. Hightower, strong fortress, no. We go to Darklair, yes, yes. Get more weapons, then we attack Hightower. Darklair, yes, yes, we go there first. Fool, how do you ever make Paul Leader? Ah, vicino a convoscuro. E adesso come lo metano, non ci vorrà molto, che non ci vorrà molto, che non ci vorrà poco più sulle, che giugno in semento e scaven. Eccoci qua, convoscuro. Buonanotte da ingegneri di Clasky, è un strano di... Conoscura nel momento che vengono la regia, che segna in sotto una foresta, o di tarnere di lati, tram, e effetti sono numerosi, dovutei traboccati, ma chiedere in perenne movimento, e di varpietra inducente. Bonotti delle più grandi creazioni di Clasky sono state provate qui, su appena degli schiavi e peggeniani. Stura comprende anche un progettivo e un regno, Bello! Allora, 6.000, vedete il tempio... Oh, oh, oh... Eeeh... 6.000, come facciamo questo? Ok, questo è... Boh, eh? Ok, che cosa abbiamo qua? Grazie ai piccoli, cioè quella che era di assassini... Grazie al clan, grazie al salto... Oh, aspetta, 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 aspetta... Cosa possiamo farci? 200 kg? Eh sì, compriamo... Ci sono... Un altro no, ci sono anche... Questi sono... Eh, più... Se è più... Guarda... Ho rompito... Ho... Ho sicuro... Ok, andiamo su... Anche via... Portami via... Ora, quindi, se cosa mettiamo questo qua? Da questo... E invece... Ehm... Oh, basta... Combattimento... Non so, non so... 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 No, dai... Ehm... Boh... Sì, è il nostro campione... Vedete qui già... Una delle... Più... Importanti... Oop... Ok... Ok, così... Perfetto... Intanto... Allora... Cosa possiamo dare? Eh... Questa... Mischia... Mmm... Causa paura... Questo può servirci... Dato che lui sta lontano... Questo... Eh... Sì... Questa azione... Mischia... Da lui... Da lui... Da lui... E... Da lui... E... Armeria... E... Poi è un potenziale... E... E... Poi è un potenziale... Ehm... Poi è un beneficio... No, no... Cacchio... Vabbè... Ma... 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 C'è... Un eroe... C'è... Scaven... Posso usare... Finalmente... Nostri... Scaven... Pietra... Guarda pietra... Guarda pietra... Scusate... Ok... Da... Sarai tutto... Vi saluto... Se è piaciuto il premio... Se vi piace... Se volete con... Mi consiglio... Per genere... Basta... Mettere... Commentare... Fra poco... Comincerò anche... La... La serie... Su Warhammer... 2... Forse... Farò anche... Qualche partita... Multiplayer... Se volete... Arcarmi... Con me... E... Giocare... La... Modalità... Tra i giocatori... Che... Difendono... Il punto... Che... Tipo... Soprevivenza... Basta... Comentare... Da tutto... Vi saluto... E... Pregate... Ciao... Ciao... Ciao...